Il senso e le proposte che sono state fatte anche perché in questo modo il legge poi anche dopo riesce a collocare il cartellone o il mi piace del suo percorso. Lì ovviamente noi diremo anche questo, uno dei punti che secondo me dovrebbe venire fuori comunque è un po' questa idea che voi avete partecipato come persone ovviamente interessate, molto impegnate, molto anche disponibili a fare questo percorso e a starci, ma anche come espressione di altri che non sono venuti e che un po' come attraverso di voi hanno portato l'esperienza dell'associazione qui. Mi chiederemo proprio di fare delle ipotesi di come vi immaginate una pagina del giornalino, utilizzando un sistema molto semplice di cartoncini ritagliati che rappresentano gli ingombri dei vari pezzi, quindi cartelloni, scritti eccetera, pensare un po' come vi immaginate una pagina, magari eventualmente anche se vi vengono qualche titolo, titoletto, indicazione. C'erebbe? Magari tutti i cartelloni da una parte, mescolati, con dei titoletti. Infatti voi non avete già deciso se sostanzialmente fare una facciata per ogni associazione oppure... Ah, ho capito. Tutti in divenire. Ci piaceva un po' vedere, vedere un po' insieme, poi magari ognuno di noi ha le nostre idee, però per adesso ancora ce le teniamo un attimo così... Grazie a tutti.